Ed eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre solo con il microfono e la cam accesi. Allora, siamo arrivati a Pasqua, passa il tempo, decisamente. Che dire, ormai gli auguri più gettonati di quest'anno sono quelli finti, dalle finte parole del Papa, ok? Ormai sono diventati virali, non importa che siano stati smentiti anche dai giornali cattolici, eccetera, eccetera. Ormai quando una cosa parte, parte. Però è un fenomeno, secondo me, che bisognerebbe studiare, questa cosa qua. Perché quando fai notare che sono parole false, chi lo fa notare, ha delle reazioni, delle risposte che sono veramente appunto da studiare. Diciamo che la stragrande maggioranza delle persone neanche proprio rispondono, cioè se ne fregano, cioè passano dritto. Leggono che sono finte le parole, che è una fake news. Però sono troppo indaffarate a direla loro, a commentare queste finte parole, con applausi, con disprezzo per chi non è d'accordo, cose del genere. Diciamo che non si soffermano sul fatto che non sono vere. Dopo c'è chi dice, pazienza, anche se non sono vera, a me piacciono. Altre persone dicono, sì, magari non sono del Papa, però sicuramente ha il suo pensiero, ok? A me sta cosa ricorda tanto un fenomeno di tanti anni fa. Mi ricordo quando ancora si vendevano dischi, c'erano le compilation, tipo il festival bar, tipo queste cose. Mi ricordo che venivano vendute una marea di compilation, tra cui ce l'aveva anche un mio amico. Ne aveva messa una con i successi dell'estate, del momento. C'era Ricky Martin, c'era. Mette su, sui vecchi autoradio, ok? Quelli che ancora si portavano via quando si parcheggiava la macchina. La cassettina e mi ricordo che sentivo queste canzoni e dicevo, sì cazzo, ma questo non è Ricky Martin, questo non è, cioè, sono delle cover. Questo mio amico fa, ma veramente non sono le canzoni originali? Eh no, non sono quelle originali, sono cover. È un disco di cover, spacciato per canzoni originali. E io fa, vabbè, pazienza, sono belle lo stesso. Cosa facevano all'epoca? Praticamente, per non pagare i diritti che bisognava dare per fare un disco con una compilation, le facevano ricantare la canzone, le facevano delle cover, facevano dei dischi e vendevano quelli. Ma le vendevano una strage. Cioè, io mi ricordo all'epoca, mixage, cose del genere, erano molte, erano fatte veramente con cover, per non pagare i diritti. Però la gente non gliene fregava niente. L'importante era sentire la canzone. E forse questo è l'augurio, diciamo, che posso farvi in questa Pasqua, pensandoci bene. Alla fine, la verità è sopravvalutata. Alle persone della verità non gliene frega niente, mettiamola così. Ognuno ha la sua di verità. E di sentire quella che magari non è tanto giusta. Non sono tanto interessati alla cosa, vogliono essere, continuare a essere convinti. Perché alla fine magari sono anche felici di questa cosa. Serve a loro per continuare a credere, a essere felici, a essere contenti. Quindi alla fine, ripeto, la verità è sopravvalutata. Il mio augurio di buona Pasqua è fate quello che volete. Se vi rende felici, se vi rende contenti, se vi rende soddisfatti, vi rende fregata. È un po' come il vivere l'oggi. Vivete delle vostre convinzioni, sbagliate, vere che siano. Tanto alla fine, se siete contenti così, contenti voi, contenti tutti, no? E alla fine degli auguri anche sinceri e con parole vere al Papa, che mi sembra di capire che non se la stia passando molto bene con la salute. Quindi auguri anche a lui. E auguri anche a voi, comunque, fate quello che volete. Buonanotte e buona Pasqua.